Ringraziamo il sindaco, salve sindaco. E appunto, se non vado errato, partiamo con una presentazione. Vorrei partire con una presentazione come si conviene. Allora, alziamo un po'. Chi non sa, ricorda. Suona con noi Simone da Trecate. Suona con noi Michele Di Carriago. Suona con noi Andrea Di Meneghiano. Suona con noi Daniele Di Fornate. E per ultimo, suona con noi Gabriele da Sesto San Giovanni. Buon appetito! Buon appetito! Grazie per l'applauso! Come diceva giustamente, noi siamo in calcio. Siamo qui, siamo qui per divertirci, per fare casino. Siamo qua. Perché la musica, l'arte, va al di là di quello che è. Perché è tutto qua. Noi siamo qua solo per fare musica e qualcosa di divertirci. Quindi venite qua e piattetevi con noi. Noi siamo qua. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.